Veronica, come puoi raccontarci il gol del pareggio poco dopo il tuo ingresso? Una grande emozione, sono contenta un po' meno per il risultato ottenuto e c'è ancora molto da migliorare sicuramente. Ecco, il gol dal quoziente di difficoltà non altissimo, però l'importante per un attaccante è essere lì, farsi trovare pronta. Sì, è importante essere nel momento giusto, al momento giusto e è importante anche avere compagni altruiste come l'Ala in questa occasione. Sì, effettivamente Laura è arrivata davanti alla porta, avrebbe potuto anche calciare però con la coda dell'occhio ti ha visto lì e ha pensato solo a servirti. Sì, la ringrazio e sono contenta.